Voci.fm, il sito delle voci. Partner, Voxil Vocegola. Su Voci.fm Enrico Brignano, protagonista di Tutta un'altra vita, sei un uomo che aspetta, si dice, ma poi alla fine dai, passa col rosso. Non lo so chi dice che sono un uomo che aspetta. Nel film, nel film si dice. Nel film, sì, nel film. Sono uno che stenta anche ad aspettare, cioè aspetta il numero giusto perché gioca non solo la schedina, gioca d'azzardo con se stesso, con la sua vita e alla fine pensa di aver vinto un'altra vita, un'altra vita più agiata, una vita piena di sogni e poi dopo però fa i conti con la realtà. E la realtà purtroppo arriva come le maree, ci porta la sua plastica. E quindi in questo caso, insomma, le vicissitudini di questo Gianni, tassista con la multipla, che non riesce nemmeno a fare il cambio gomme, insomma, poi guiderà la Lamborghini, avrà donne bellissime, andrà alle feste, alle feste col red carpet, insomma. Tutto quello che tendenzialmente nell'immaginario collettivo vorremmo fare è avere tutti, il biglietto per andare alla festa, insomma, no, quella serata fantastica dove indossare lo smoking. Quindi avere, tutti vorremmo avere il pretesto di indossare lo smoking. Sei attore ma anche doppiatore, ci interessa molto la tua voce, sei anche la voce di Olaf in Frozen, quindi volevo sapere questa esperienza nel doppiaggio, queste esperienze, perché ne fate più di una nel doppiaggio, come sono andate? Allora, io sono ritornato ai cartoni animati, perché io feci, quando ero veramente giovine, feci Asterix, Obelix e la Pozione Magica, ancora lo ricordo. Facevo un antico romano, un Gallufus, ritorno invece attraverso un provino con i classici canoni di Walt Disney, al doppiaggio, questa volta con un pupazzo che io durante il doppiaggio nemmeno vedevo bene, perché per tutela gli americani avevano tolto completamente il colore, avevano abbassato la qualità, l'avevano reso tutto frammentario, è molto granuloso l'immagine, pieno di numeri, codici, code, quindi io quando doppiavo in effetti non avevo capito cosa stessi facendo. Poteva essere anche un pollo. Poteva essere qualsiasi cosa. E invece poi il fascino di vedere questo film, da me doppiato e la mia voce è quasi irriconoscibile, è stato tanto, ma non sapevo che di lì a poco avrei messo al mondo una bambina che sarebbe rimasta affascinata e che oggi a due anni e mezzo di vita confonde il papà con Olaf. Credo che sia la cosa più bella di questi ultimi miei 60 anni di vita. Come esperienza ti piace il doppiaggio, insomma ti è piaciuto stare al buio, soprattutto usare solo la voce senza il tuo corpo, i movimenti? No, quello sì, insomma stare al buio non è bellissimo, però io mediamente sto sempre nel buio mistico dello spettacolo, per cui nel buio siamo un po' più creativi, ma credo tutti quelli che fanno arte sono creativi, anche quelli che fanno sesso sono più creativi al buio. Però l'effetto finale che ha avuto su di me, ma soprattutto sui bambini, la canzone, le cose, insomma è stato veramente un'esperienza che fra po' rifarò, perché partirà Frozen 2 e quindi insomma siamo pronti per doppiare un'altra volta le avventure di questo piccolo pupazzo di neve. Per chiudere però la domanda nasce diciamo spontanea, tu usi tantissimo la tua voce, tu fai anche le vocine, no? Quanto ti ci applichi a fare queste vocine, perché spesso ti sentiamo fare l'uomo e la donna sul palco escenico, fai voci da bambino, quindi come hai imparato e come curi la tua voce che è importantissima per il tuo lavoro? Allora la voce non la curo, se non fumando, non fumo, non bevo e quindi questa è già una buona cura per la voce. Sicuramente con l'età la voce è diventata forse un po' più calda, la capacità di fare le vocine c'è sempre stata, quindi dal momento, anche quando ero giovine facevo le scuole elementari, già facevo le piccole imitazioni dei professori, per cui niente, ho solo coltivato, migliorato e poi sai, forza di stare sul palco scenico, io ho 34 anni di carriera, non so dire quante ore sono stato sul palco scenico, una media di 150 spettacoli l'anno fate voi, tre ore a spettacolo fate voi, i carcoli fatele voi insomma. Ho una mentina ogni tanto, te la devi mangiare. Allora un saluto a voci.fm da Enrico Brignano, ciao. Chi lavora con la voce è su voci.fm, partner Voxil Vocegola.